Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con In Campo e questa sera parliamo di sport a tutto campo con il delegato provinciale Coni Ettore Castoldi. Buonasera Castoldi. Buonasera Andrea e tutti gli spettatori. Questa sera come vedete siamo come del resto nelle puntate precedenti a distanza di sicurezza abbiamo con noi la mascherina anche perché il tema è veramente di stretta attualità abbiamo visto nei giorni scorsi partite di cartello come Juve Napoli annullate ovviamente poi ci sarà una decisione che va presa in settimana nazionale under 21 che deve affrontare la trasferta in Irlanda la partita non viene disputata per diverse positività nel fine settimana addirittura diversi orientamenti per quanto riguarda la corsa mascherina da tenere prima mascherina da togliere successivamente con un pronunciamento che è avvenuto proprio nel fine settimana quindi Castoldi il movimento sia di vertice che di base in questo autunno 2020 deve fare i conti con alcuni punti di domanda. Certo con tanti punti di domanda perché questa pandemia che sembra ci sia questa seconda fase non risparmia nessuno nello sport di vertice ne tanto meno quello di base lo sport di vertice esiste se esiste lo sport di base se l'attività si ferma alla base per un anno adesso non so per quanto tempo sicuramente avrà ripercussioni prossimamente su tutto il movimento sportivo chiaramente quello italiano quello provinciale e quello è quello internazionale noi sappiamo bene che questa è una provincia che seppur con piccoli numeri perché abbiamo pochi atleti essendo anche una provincia con una popolazione ridotta però ha portato tante medaglie nel medagliere olimpico quindi abbiamo avuto lo sport di vertice che come si diceva prima è frutto di un lavoro che viene fatto nelle palestre negli oratori nei campetti come stanno vivendo le società questa fase di incertezza allora io ho avuto parecchie telefonate da vari presidenti di società soprattutto per quelli che fanno attività di base di gruppo non sanno come regolarsi allora sugli spazi soprattutto sulle palestre sugli spogliatoi come ospitare le varie squadre che vengono che protocolli attuare perché noi abbiamo sì situazioni palestre belle e agibili però abbiamo anche delle criticità chi usufruisce dallo stesso impianto per magari ci sono due o tre società che usufruiscono dallo stesso impianto perché una fa pallacanestro l'altra fa pallavolo e l'altro non lo so che fa attività di base eccetera come gestiscono questi spazi chi sanifica a chi quando sanifica ci entra la scuola la mattina che protocolli devono usare quali spogliatoi che distanze devono tenerne negli spogliatoi ecco queste sono tutte criticità che bene o male questi presidenti mi hanno portato a cui non so rispondere ho avuto anche un incontro con il prefetto in questo senso abbiamo parlato di sport in generale della nostra provincia eccetera eccetera e mi hanno detto che queste criticità prima o poi devono essere affrontate solamente che la pandemia questo virus continua a crescere al posto di diminuire per cui tutte le certezze che possiamo avere oggi sono sicuramente magari domani negate dell'evidenza medica che è imponderabile anche perché settimana scorsa gli sport di contatto si potevano praticare poi nel fine settimana non ci sono ancora diciamo regole e orientamenti definiti però anche in quel caso insomma incominciano a esserci parlano del calcetto esatto però il basket la pallavolo anche quelli sono sport di contatto vengono fatti al chiuso quanti spettatori possono entrare chi entrerà cosa faranno non si sa niente se incominceranno domenica prossima cos'è alla fine mese dovrebbe iniziare il campionato di serie c di basket e di serie d sondrio la partita in casa la farà bel punto di domanda anche perché abbiamo visto in questi giorni ad esempio la trasferta dell'italia in polonia c'erano 7 mila spettatori ad anzica certo nei nostri campetti come si può gestire l'afflusso degli spettatori è tutto un'incognita che si dovrà valutare poi dopo giocare anche senza pubblico soprattutto per le nostre sport individuali veri sport di squadra della nostra provincia è abbastanza alienante non è che ce ne fosse tantissimo che seguì però i genitori amici spettatori qualcosa c'era guardiamo per un attimo allo sport che è stato protagonista in questo fine settimana con due eventi uno in provincia di sondrio uno a milano partiamo dalla provincia di sondrio con la chiavenna lagunce chilometro verticale grande successo per questa edizione 330 gli atleti al via per la chilometro verticale chiavenna lagunce e pensate in campo femminile davvero un testa a testa con sarah mccormack e la camuna valentina belotti che hanno fatto segnare lo stesso tempo 39 e 0 3 si è andati poi ai centesimi per vedere appunto chi fosse la vincitrice 35 centesimi di differenza a favore dell'irlandese mccormack che quindi ha vinto la prova in campo maschile invece si è confermato vincitore henry aymond sportification si conferma dunque imbattibile nella vertica l'ha fatto tripletta a lagunce dopo le vittorie di malonno e nasego è vero uno specialista il suo crono stato di 32 e 31 mentre invece a milano è una cornice davvero mitica perché risale ai tempi di napoleone parliamo dell'arena che ha riaperto dopo una lunga ristrutturazione verrà inaugurata il 15 di ottobre ma ieri c'è stata una prima importante manifestazione all'arena civica intitolata gianni brera appunto che verrà inaugurata il 15 ottobre quasi 200 atleti in gara e ci sono buone notizie anche per i nostri atleti tanto diciamo che un'arena mitica perché fa notare la fidel lì venne stabilito il record mondiale di 800 metri da fiasconaro nel 73 73 non solo l'orano toz nel 95 ha stabilito un primato sui 200 ostacoli personale la vittoria anche di pietro mennea nel 77 sempre sui 200 metri sul giamaicano don querri ma vediamo proprio i risultati dei nostri ragazzi che sono davvero importanti abbiamo il nostro atleta daniele lanzini che è sceso per la seconda volta sotto il muro dei 14 secondi nei 100 ostacoli 13 94 il suo tempo d'altro il ragazzo è un bronzo tricolore perché recentemente ha vinto il bronzo nei campionati italiani e poi sofia paganoni che nel salto in alto ottenuto il secondo posto a pari merito con francesca fornaroli del cp novara con la misura di 1 e 57 metri quindi complimenti a sofia ea daniele daniele certo l'attività di base se balterina si fa e si fa bene l'atletica dopo anni che si faceva solamente corse in montagna oppure corse di resistenza così ha ampliato il suo ventaglio per cui ci sono questi ragazzi che bene o male emergono e anche noi possiamo dire la nostra a livello regionale nazionale anche perché come delegato coni può essere soddisfatto di quello che è accaduto negli anni scorsi con tanti nostri atleti che hanno rimeggiato a livello nazionale internazionale tutto lavoro fatto di base quando abbiamo fatto l'attività nella scuola elementare e adesso volevamo farlo anche nella scuola dell'infanzia aspettando tempi migliori ecco guardiamo anche al 2026 terra olimpica quindi ovviamente la nostra provincia un'occasione unica e ripetibile certo le infrastrutture però devono essere sicuramente potenziate ma sicuramente potenziate perché altrimenti non si va da nessuna parte però ci sono tutte le premesse per fare un buon 2026 con i nostri con i nostri ragazzi e con tutta la valtellina dietro che fa la cornice a questi giochi olimpici grazie mille Castodi per essere rimasto con noi quindi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera ricordiamo un autunno 2020 lo sport sempre importante per tutti da fare con grande attenzione e prudenza sempre con la mascherina quando necessario quando è previsto dai protocolli e poi incrociamo le dita alla prossima grazie mille grazie mille grazie mille